Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi ragazzi sono qui su GTA 5 Mentre sto facendo uno stunt e prendo uno di patonna che cosa gli ho fatto, oddio, T6 Vabbè, in ogni caso ragazzi sono qui, come avete potuto vedere dalla miniatura Vi farò vedere delle nuove cose che mi hanno, diciamo, fatto scoprire degli amici Che anche loro tengono GTA 5 per PC E mi hanno fatto notare appunto che ci sono queste cose che non ho fatto vedere nel precedente video E oggi andiamo appunto a vedere i costumi, i completi per la Shotaro Che di conseguenza sono illuminati anche quelli Ringrazio e saluto Cryptus che mi ha aiutato e mi ha fatto notare appunto queste cose nuove qui Nuove si fa per dire Che arriveranno insieme alla Shotaro Quindi o questo martedì o martedì prossimo In ogni caso arriveranno anche su PS4 e Xbox One Quindi non pensate per niente che è una mod per PC Cioè è una cosa ufficiale da parte della Rockstar Che infatti so che può sembrare strano ma è così Ecco qui già possiamo notare che la Shotaro prende luminosità da quelle parti Insomma tutte neon che cazzo sono Tra l'altro nel frattempo che vi faccio vedere i completi Io vi invito a scrivermi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questi completi appunto Bene ragazzi l'ho selezionato Eccoci qui con il vestito di Tron Versione bianco Perché ovviamente poi ci sono vari colori Bianco, rosso, blu, verde Insomma i colori come la moto Ecco perché ora la moto è spenta Ora la accendiamo Come potete vedere PAM! Si accendono i colori della moto E c'è anche un effetto sonoro Davvero molto strano Ecco vedete c'è il casco giallo C'è il casco un po' più Che cavolo è più giallo Blu, rosso Verde, blu Ecco qui giallo E verde Ora andiamo a fare Vabbè poi c'è il colore 10 Che è tutto nero ragazzi Ora non vi faccio vedere tutti Perché mi faccio vedere quello più colorato Insomma il colore blu Eccolo qua Perché così Giusto per risperchiare Anche il colore del mio canale Eccoti qui invece ragazzi Il colore blu Che si rispecchia diciamo Un pochettino con la moto Perché ovviamente poi possiamo cambiare Anche il colore della moto Possiamo mettere verde Giallo, blu Tutti i colori che vogliamo E questi sono invece i colori Del Insomma del costume Da pilota di Tron Eccolo qua Tutto blu Blu che si va a Diciamo Confondere con un viola Un po' così pallido In ogni caso Ecco qui c'è il casco Appunto Il torso L'armatura I pantaloni E persino Anche Anche le scarpe Quindi possiamo personalizzarlo Al meglio Come potete vedere Si illumina tutto ragazzi Ci sono ovviamente Vari colori Che non vi faccio vedere tutti Perché sennò Sarebbe un bordello Farveli vedere tutti Però comunque Se riesco Vi lascio un'immagine Che scaricherò da internet Che tutti quanti La potete trovare su internet In ogni caso Vi lascio qualche immagine qui E ultima cosa Ma non meno importante Ragazzi Che mi ha fatto notare Sempre il mio amico Cryptus Che lo saluto E un nuovo tipo Di meteo Un nuovo tipo di Come si dice Avete presente il meteo Nel senso tipo Soleggiato Ehm Pulito Nuvoloso Ehm Piovoso Insomma Ecco Abbiamo messo l'orario A mezzanotte E ecco qui Diciamo Il meteo Halloween Ragazzi Siete pronti? E' davvero spettacolare Questo meteo E' davvero spettacolare Come cosa A mezzanotte Si vede davvero La sua spettacolarità In sé per sé Ecco ragazzi 3 2 1 Via C'è ragazzi Vabbè la polizia è passata così C'è Allora Iniziamo dal fatto che I lampi I tuoni Qui che cazzo sono Fighissimo Cioè ci sono tuoni Ogni due per tre Che va a rispecchiare proprio Il tema Halloween C'è la luna Che l'ho notata solo ora Che gigantesca ragazzi La luna gigantesca Che cazzo di figata Che figata In ogni caso Possiamo anche notare che Il tempo E' tipo colore verde Fa paura questo tempo Fa paura ragazzi C'è i lampi Guardate Ultima cosa Che ci fa notare Vabbè oltre la pioggia E che non finisce mai Non finirà mai la pioggia E che i colori Delle luci Insomma le luci Sono molto più Illuminate Nel senso Hanno una tonalità Diversa Da normale Da un semplice notte Ecco Ora non so se magari Un fulmine ci potrebbe Prendere in pieno No non penso Dai In ogni caso È fighissimo Voglio provare a portare Un aereo Un aereo Eh attenzione ragazzi Un aereo In questo Con questo tempaccio Di merda Vediamo se tipo L'aereo viene Oddio si viene sbalzato Ragazzi Come dovrebbe essere ovvio No Cioè guardate come viene Le turbolenze Guardate Ma no Vabbè il tempo È spettacolare Cioè vedete La pioggia Vabbè sul pc Con dettaglia Ultra Modestamente È spettacolare La pioggia E si vede tranquillamente Quindi I veicoli di Halloween E il tempo Arriverà Durante il periodo Di Halloween Mentre Il costume È la moto di Tron Con tutte le altre Varie moto Che vi ho fatto vedere Nell'altro video Se non l'avete visto Cliccateci qui Vi metto un'immagine A schermo Se riesco E appunto Queste moto Verranno aggiunte Ogni martedì Quindi ogni martedì Troverete una nuova moto Che ci sarà Ecco Beh ragazzi Comunque il video Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bellissimo like A questo video Se il video vi è piaciuto E se vi piacciono Anche i contenuti Tra cui il tempo E i costumi di Tron Tra virgolette Costumi Condividete questo video Sui vari social network Per farlo vedere Anche ai vostri amici Lasciate un commento Qui sotto Facendomi sapere Che cosa ne pensate Di questi contenuti nuovi Che arriveranno man mano Penso che Il tempo di Halloween Durerà solo Per pochissimo tempo E non ci sarà sempre Oh 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 Mannaggia Vabbè Non sono esploso Beh ragazzi Detto questo Noi ci vediamo Al prossimo video E Ciao ciao